Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo qui con un nuovo video, video in cui vi annuncerò una cosa davvero importante riguardante la Games Week Prima di iniziare volevo ringraziarvi per il raggiungimento dei 100.000 iscritti, lo dico davvero rapidamente perché farò un video se non di più a parte Uno l'ho già fatto quindi andate un'occhiata al mio canale, non mi voglio dilungare troppo ma mi dispiaceva anche non dargli questa importanza Dunque per quanto riguarda la Games Week ci vedremo a Milano il 25 ottobre, ripeto la Games Week è il 23, 24, 25 ottobre a Milano E' questa fiera all'interno della quale verranno presentati nuovi giochi che potete provare, novità nel campo videoludico Tutte queste genere di cose davvero interessanti, naturalmente ci saranno molti altri youtuber oltre a me Io ci vado domenica perché vado assieme ai miei amici quindi probabilmente mi vedrete assieme ai miei amici Tra l'altro date un'occhiata al profilo Instagram perché ho iniziato a postare qualche foto che potrebbe darvi qualche indizio su come raggiungerò la Games Week Tutte delle piccole informazioni quindi è davvero importante che lasciate un bel segui diciamo così al mio profilo Instagram Che è quello tra l'altro che uso di più, se volete c'è anche la mia pagina Facebook e c'è anche il mio profilo Facebook Quindi se potete, se volete potete seguirmi lì Una cosa importante, volevo ringraziare la Tom's Hardware che mi permette di partecipare a questa fiera Tom's Hardware che è il mio network quindi ringrazio il fatto che mi possa fornire gli ingressi Mi possa permettere soprattutto di incontrare voi Ragazzi, la cosa più importante naturalmente è quella di incontrare voi Una cosa che mi preme di dire è che magari io adesso parlo davanti a una telecamera E non parlo davanti a ogni singola, ogni singolo iscritto, ogni singola persona che guarda i miei video Vi assicuro che guardarvi, magari vedervi davanti a me e potervi stringere la mano Potervi parlare assieme, poter ridere, che ne so, fare una foto o così È una cosa davvero strana per me Sicuramente nuova e sicuramente strana Per il semplice fatto che non sono molto abituato Quindi dovrò in un certo senso abituarmi al fatto che dei ragazzi che mi seguono eccetera mi possano riconoscere Sono davvero contento che grazie a YouTube possa essere diventato qualcuno per molti E soprattutto non vedo l'ora di partecipare a questa fiera in cui spero di incontrarvi davvero in tanti Quindi detto là fra è tutto Spero che il video vi sia piaciuto Vi ricordo domenica 25 ottobre a Milano Ci vediamo per la Games Week Intanto c'è la luce di Dio che mi illumina una metà della faccia E con la luce di Dio vi saluto Bye